presentati io mi chiamo Cosmina ho 9 anni sono in quarta... sono nella classe quarta B cosa vuoi fare da grande? da grande voglio fare la scienziata mi fai uno spettacolo? si, casomai l'autore si chiama Micheltelo e ballo nossa, nossa, assim você me mata ai se eu te pego, ai ai se eu te pego delícia, delícia, assim você me mata ai se eu te pego, ai ai se eu te pego un sábado na balada a galera começou a dançar e passou a menina mais linda tomei coragi di come sei a falar come chiamai? nossa, nossa, assim você me mata saluta il pubblico a casa allora, casomai io saluto tutti gli spettatori che mi guardano e la mamma e papà